Quattordicesimo minuto, cross di Odi, testa di Serezo e prima parata di Garella. Tre minuti dopo, cross Serezo e testa a Pruzzo, fuori di poco. Diciottesimo, Serezo, certamente il migliore della Roma, impegna Garella in una rispinta a mani aperte. Al ventiquattresimo si fa vedere il Verona, da Galderisi a Briegel, gran sinistro a lato. Alla mezz'ora c'è un'altra occasione per la Roma, Iorio è bravo, ma Garella è attentissimo. Prima dell'intervallo ci prova Serezo, ma Garella si oppone ancora una volta con Bravura. All'inizio della ripresa due occasioni buone per il Verona. La prima è di Fanna, poi Elkier non aggancia. La seconda invece è di Di Gennaro al nono, ma Tancredi rimedia con un piede. E torniamo al formidabile Garella, qui vola a respingere un colpo di testa di Iorio. Qui invece devia in calcio d'angolo un colpo di testa di Righetti. Alla mezz'ora il suo capolavoro, prima si oppone alla conclusione di Di Carlo, poi anticipa Iorio. E poi eccolo ancora negare il gol a Falcone. E quindi ancora una volta rispingere una intursione di Serezo. Per concludere Roma-Garella 0-0, linea valente.